Eccoci qui, buongiorno sempre da Mafia Capitale, oggi il dottor Pignatone lascia la procura di Roma, intanto lo ringrazio anch'io per i servizi resi allo Stato italiano, ha fatto una dichiarazione che in pensione il suo hobby migliore sarà la lettura del suo paese di origine Palermo. Ebbene io dottor Pignatone le consiglio e auspico che lei possa leggere il mio libro e rileggere tutti gli atti di Mafia Capitale, perché lei si dovrà rendere conto da persona per bene che è, che lì c'è stato un grave errore, gravissimo errore, noi non siamo né mafiosi né ladri, noi siamo operatori sociali nelle cooperative, questo abbiamo sempre fatto. Grazie e un in bocca al lupo dottor Pignatone.